Io in vita mia ho ascoltato più Francesco Guccini della mia mamma, di sicuro. Come canta la tua mamma? Dove canta la tua mamma? Detto questo, per chi... Dove canta la tua mamma devi rispondere. No, lasciamo stare. Porra donna. Detto questo, seriamente, per chi c'era a Genova, io ringrazio Francesco, ringrazio Simone, ringrazio i Folkabestia, i Modena City Rebels, chi ha fatto canzoni per quel momento lì. Perché chi c'era e chi ha visto come sono andate le indagini, come hanno cercato di insabbiare le cose negli anni successivi, per me che c'era, fa ancora tanto male. non smettere di dire che hanno detto delle grandi bugie, che è stato uno degli atti di violenza, i danni della popolazione più evidenti degli ultimi vent'anni, secondo me ancora dire poco. A voi. Applausi. 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 Grazie.